Una giornata eccezionale, quella di oggi, l'ultima della Tappacuianumana per i Melgers 24, una giornata con tre primi, per caso quello 11. Sì, oggi è una giornata bellissima per noi perché far tre primi con questa classe è veramente un piacere. La giornata era bella, c'era un bella rietta, abbiamo fatto belle regate e ce la siamo meritata. Quell'11 del primo giorno succede, poco vento, girava tutte le parti, ero forse anche io un po' arrabbiato per quello 11 e tutto quanto, ma ci sta. Che cosa ha funzionato oggi meglio di altre volte? Abbiamo fatto belle partenze, Enrico ha fatto veramente delle belle partenze e quando fai belle partenze diventa tutto un po' più semplice, anche se non era proprio semplice. Comunque vicino a noi ci sono barche titolate, gente molto in gamba, non è sempre facile azzeccare tutto. Cosa mi dici di questo primo nell'immersion speed contest? Siete stati i primi più volte alla prima bolina? Ah, no, ci piace questa roba qua, è un lavoro di tutto l'equipaggio che ha fatto veramente un bel lavoro, dalle partenze che aveva fatto Enrico, dalle manovre che hanno fatto tutti i ragazzi e alla fine anche delle scelte che ho fatto io che si sono rilevate abbastanza azzecate. un bel lavoro di tutto l'abbia, è un bel lavoro di tutto l'abbia, è un bel lavoro di tutto il nostro lavoro.